Mister, 90 minuti in una parita amichevole dopo tante settimane di allenamento. Ti chiedo un tuo commento generale su come hai visto i tuoi giocatori. Sì, i ragazzi stanno, ripeto, stanno svolgendo un lavoro che per quanto riguarda le prime settimane si è basato soprattutto sul ritrovare la condizione fisica. Solo negli ultimi giorni abbiamo cominciato anche a guardare l'aspetto tattico e quindi il lavoro sta procedendo bene per cercare di arrivare il più pronti possibile alla partita quella che conta con il Torino. Adesso avremo un'altra tappa di avvicinamento importante che è la partita col Bologna che è comunque una gara da fare con grande attenzione perché è l'ultimo test prima della partita ufficiale e quindi già lì comunque dobbiamo arrivare preparati sia mentalmente che fisicamente ad affrontare 90 minuti in un certo modo contro una squadra di alto livello. Per poi, ripeto, il tutto sarà incentrato negli ultimi giorni per preparare questa gara che chiaramente come saranno tutte per noi è fondamentale. Ti chiedo infine come stai lavorando con i tuoi giocatori e come anche stai lavorando con il tuo staff. Sono settimane anche di conoscenza reciproca, ovviamente tutto improntato poi al rientro del campionato. Sì, assolutamente. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni con anche delle doppie sedute perché è fondamentale conoscersi il più possibile sotto tutti i punti di vista sia da un punto di vista fisico, da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista umano perché quello è un aspetto importante e chiaramente stiamo lavorando molto proprio come ho detto prima in prospettiva del fatto che dobbiamo farci assolutamente trovare pronti perché il margine d'errore ormai è sottilissimo e quindi da qui in avanti dovremmo sbagliare il meno possibile. Siamo consci di questo e quindi stiamo lavorando, ce la stiamo mettendo tutta per cercare di riuscirci.